Ciao a tutti ragazzi, oggi torniamo a parlare di quello che mi è successo in gara allo Scenic Trail perché come vi dicevo volevo analizzarlo un pochino nel dettaglio parlando delle scarpe che ho utilizzato per lo Scenic Trail, ovvero le New Balance Yarrow versione V7 perciò iniziamo il video e vi racconto tutto come vi dicevo nel video dello Scenic Trail ho avuto dei problemi col materiale in questo caso parliamo delle scarpe non sto a farvi grandi giri di parole, vi dico subito cosa mi è successo praticamente mi sono bruciato la pianta dei piedi voi direte, in che senso? nel vero senso del termine, cioè io avevo le bolle, proprio bolle di bruciatura sotto la pianta del piede purtroppo non posso mettervi immagini di come avesse il piede perché altrimenti YouTube mi cancellerebbe subito il video però per farvi vedere quello che intendo tiro fuori la soletta da queste scarpe, da entrambe le scarpe e vi faccio vedere come sia su una soletta che sull'altra appena riesco a tirarla fuori, eccola qua su entrambe le solette, nei punti in cui io sono andato a bruciarmi cioè quindi dove avevo le bolle la soletta è bruciata cioè proprio si vede che nel punto esattamente dove io mi sono bruciato la soletta è bruciata vi è mai capitato ad esempio di camminare per un po' di tempo in spiaggia magari verso le 2, le 3 del pomeriggio e sentire proprio il bruciore sotto i piedi ecco ho avuto la stessa identica cosa sono andato avanti nel camminare e mi sono venute le bolle continuando a camminare le ho fatte esplodere a un certo punto ho iniziato a sentire davvero tanto male mi sono fermato ho tirato via la calza per vedere e tirando via la calza ho tirato via la pelle morta quindi vi lascio immaginare a quel punto soprattutto il dolore nel appoggiare il piede per terra e poi comunque queste scarpe non dico che siano diventate inutilizzabili però vabbè la soletta praticamente sarebbe da buttare via e comunque anche dentro la scarpa esattamente nei stessi punti ha delle chiazze quindi anche lei è un po' di bruciato ma perché mi è successa questa cosa? allora sinceramente sto ancora indagando partiamo dal presupposto che io ho scritto direttamente a New Balance allora queste scarpe me le sono comprate io e le ho comprate dal sito di Zalando perché costavano un po' meno rispetto al sito New Balance l'ho scritto a New Balance dicendo sappiate che ho avuto questo problema che non sto parlando di una suola scollata che dice un errore cioè un difetto di fabbrica che ci può stare? e ho avuto questo problema che è molto grosso e loro se ne sono lavati le mani praticamente mi hanno detto no no se non le hai comprato noi non ne vogliamo sapere quindi New Balance non mi ha aiutato secondo me azzardo è parliamo della suola la suola in questo caso è una Vibram Megagrip secondo me è la versione Light Base perché vi dico secondo me? perché non ci sono informazioni ufficiali però sul sito Vibram c'è scritto che la versione Light Base va a diminuire del 30% il peso della suola e idem sul sito New Balance c'è scritto che nella nuova versione la suola è stata ridotta dal peso del 30% quindi facendo uno più uno immagino che sia lo stesso anche perché ci dice New Balance che parla di suola Megagrip ma Megagrip è la mescola Light Base è la tecnologia sono due cose un po' diverse per intenderci le vecchie suole Vibram erano alte 1.7 mm la versione Light Base è alta 0.4-0.5 mm quindi molto meno questo si sente soprattutto anche quando andiamo a correre cioè su questa suola essendo molto fine ed essendo anche l'intersuola non tanto duro quindi nel senso trasporta all'interno qualsiasi contatto noi facciamo cioè noi sotto sentiamo tutto cioè se noi prendiamo un sassolino veramente piccolo lo sentiamo non fa male, non sto dicendo che fa male però sentiamo di aver preso un qualcosa sotto che può piacere se vogliamo un maggior feeling col terreno può non piacere dico la verità io alla lunga all'inizio lo apprezzi alla lunga diventa quasi disturbante perché continua a sentire roba sotto i piedi e non è così tanto bello poi ripeto, giudizio mio personale e vorrei parlare anche della tenuta di questa suola non sto dicendo che il Megagrip non abbia una buona tenuta perché il Megagrip è forse la mescola migliore che ci sia sul mercato al momento poi di questo magari ne parliamo io vorrei parlare della costruzione e della forma che ha questa suola dei tasselli come vi ho fatto vedere nel video dello Scenic Trail mi sono ritrovato a correre praticamente su ruscelli su sentieri che erano diventati ruscelli pieni di fango e di foglie cioè fidatevi questa suola sul fango non tiene praticamente nulla cioè la forma del tassello il distanziamento tra i vari tasselli non tengono nulla sul fango davvero ho rischiato di cadere tante tante volte fortunatamente non sono caduto ma ho rischiato ho messo mano per terra veramente tante volte che dire questa è la suola la suola di queste particolari New Balance perché comunque se andiamo a vedere altre Light Base altre in Mega Grip non hanno questo tipo di problema proprio perché la costruzione e la forma dei tasselli è completamente diversa è proprio in questo caso che stiamo parlando di questa suola ma perché mi sono bruciato sinceramente questo particolare non ve lo so dire cioè a me sarebbe piaciuto indagare Vibram sto ancora aspettando una risposta da loro per quello che mi è successo ma non me lo so spiegare l'unica cosa che so è che praticamente correndo su asfalto in discesa e poi in salita nelle ore più calde della giornata parliamo tra l'una e le due mi sono trovato più o meno per una decina di chilometri comincivo a correre su asfalto cioè io non ho avuto praticamente protezione dall'asfalto cioè l'asfalto come è classico che sia butta su tutto il calore molto caldo e io praticamente come se avessi corso a piedi nudi su asfalto motivo per il quale mi sono bruciato altro purtroppo non vi so dire sinceramente di questa scarpa poi non voglio andare ad analizzare nient'altro non tanto perché non ne so analizzare nel senso potrei farvi la recensione ma per fare la recensione di questa scarpa a parte che con quello che mi è successo probabilmente sarei fin troppo influenzato e soprattutto avrei bisogno di altri chilometri per capirla un pochino meglio in certi aspetti detto ciò io non me la sento di indossarti un'altra volta il trauma che ho subito anche psicologico non mi porta a metterle su un'altra volta quindi non arriverà una recensione ufficiale di queste scarpe vi ho raccontato la mia esperienza che rimane la mia esperienza e spero sia solo la mia parlando magari di una scarpa che ha avuto un difetto di fabbrica questo però finché New Balance o Vibram non me lo confermano non ve lo so dire nel caso avrò aggiornamenti lo metterò come primo commento qua sotto per il resto non vi dico altro nel senso non vi so parlare di come è l'intersuola come è la tomaia come è la stabilizzazione perché davvero penso di essere fin troppo influenzato e andrei probabilmente a parlare male della scarpa su aspetti che magari non sono così malaccio quindi ragazzi detto ciò io spero di che mi capiate sul perché non vi faccio la recensione di questa scarpa mi piacerebbe tanto sapere da voi se avete mai avuto problemi simili da questo punto di vista perché io ho parlato anche con il mio allenatore che ha più esperienza di me eccetera non ne aveva mai sentito e vi prego in questo caso di farvelo sapere nei commenti per capire se sono io sfortunato che ho avuto un modello fallato oppure a una cosa che magari può succedere quindi ragazzi detto ciò io vi ringrazio per aver visto questo video aspetto davvero i vostri commenti perché voglio sapere cosa ne pensiate e detto ciò io vi ringrazio per aver guardato anche questo video e noi ci vediamo al prossimo ciao